La costellazione della poppa è il regno degli ammassi aperti. Ce ne sono 25 molto brillanti tra i quali troviamo vicini tra di loro M46, M47 e NGC2423. M46 e M47 sono due spendi di ammassi aperti ma molto diversi tra di loro. M46 è densamente popolato di stelle, che a bassi ingrandimenti si fondono in una vaga nebulosità, mentre M47 contiene 6 stelle brillanti 3 delle quali di magnitudine 6. Il terzo ammasso del gruppo NGC2423 è più piccolo dei due precedenti ed è invisibile al binocolo. Grazie alla loro diversità se osservati in un telescopio almeno da 250 mm, con un basso ingrandimento restituiscono uno spettacolo unico.